Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi andiamo a vedere oggi chi vince la ruota della fortuna e vince domenico facciamo subito il giro ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono Cecchinato e oggi siamo in unissimo video su Fortnite News per vedere i pochissimi leaks insomma che sono usciti nelle ultime ore come ben sapete infatti è picca in vacanza e purtroppo come potete anche vedere dagli ultimi video non è che abbiamo chissà che da vedere però abbiamo delle curiosità e qualche news anche per la prossima stagione detto questo per iniziare solito like mi raccomando ragazzi se non sei ancora iscritto iscriviti al canale che mancano 5000 iscritti ai 40.000 stiamo quasi vicini e poi vi ricordo che è anche un canale Telegram se volete entrare lì ho il gruppo con anche tutte le news aggiornate in tempo reale e poi ovviamente potete anche parlare insomma con altri componenti del gruppo quindi vi invito mi raccomando ad entrarci il link in descrizione detto questo partiamo con le news partiamo ragazzi a pinnacoli pendenti infatti il palazzo che è stato già votato dalla community comunque è in costruzione probabilmente ragazzi potrebbe arrivare o questa settimana o oggi addirittura o giovedì o magari lo fanno direttamente con la nuova patch che vi ricordo è in arrivo il 9 agosto patch 21.40 quindi o con il 9 agosto o questa settimana vedremo la costruzione di questo palazzo ma come ben sapete c'è la votazione attualmente per costruire un altro palazzo che sono questi tre simili soprattutto il primo e il secondo sono simili poi c'è il terzo che è un pochettino più piccolo rispetto agli altri due bianchi e come possiamo vedere però attualmente sta vincendo ragazzi il terzo palazzo quindi quello in basso a destra attualmente sta vincendo anche con abbastanza voti in più quindi fatemi sapere comunque voi per chi state votando io ho detto sinceramente tra questi tre io avrei votato o il primo o il secondo ma per un semplice fatto di grandezza cioè molto secondo me più loot sparso molto più grande avrei preferito quei due a vedere il terzo mi sembra molto più piccolo come diciamo costruzione no come edificio però è anche vero che a livello estetico forse è un pochettino più raffinato un pochettino più carino comunque fatto sta che il terzo probabilmente ragazzi vincerà inoltre Epic ragazzi sta iniziando a lavorare ad un nuovo veicolo che sembrerebbe essere simile al Mecha in realtà ci sta lavorando da tantissimo tempo io mi ricordo dei leaks che erano usciti addirittura a inizio capitolo e forse anche prima del capitolo 3 che parlavano sempre di questo di questa sorta di Mecha 2.0 non so se ve lo ricordate ne avevamo parlato in alcuni video mi ricordo e come possiamo vedere è quindi una sorta di veicolo se così lo possiamo chiamare simile al Mecha quindi ci potranno essere dei giocatori che ci entrano potrà sparare e sarà sostanzialmente quasi insomma identico al Mecha infatti abbiamo anche delle novità come potete leggere sotto ha un'abilità bloccante che non so bene a cosa si potrebbe riferire però come vi ho detto prima c'ha il fuoco primario e secondario quindi può sparare proprio come il Mecha e può scattare e ricaricare come anche il Mecha quindi scattare credo che sia quel piccolo insomma quella piccola velocità che puoi mettere ogni tanto al robot e può anche ricaricare e ricaricare credo che siano i colpi quindi sostanzialmente molto simile al Mecha vedremo quello che insomma faranno comunque dovrebbe ragazzi arrivare durante la stagione 4 quindi da settembre in poi parliamo anche di una skin e quella come possiamo vedere del set di Mecha morti potrebbe ragazzi tornare questa skin se non erro non torna da parecchio tempo e sembrerebbe che sia stata aggiornata per il negozio e getti tra le altre cose è uscita un anno fa verso questo periodo mi sembra che era uscita quindi altro motivo per farla tornare quindi se volete questa skin sappiate che a breve potremmo sicuramente presto vederla nel negozio e getti comunque come possiamo leggere la sua prima uscita è stata il 22 agosto e la sua ultima uscita è stata il 12 settembre ciò che parliamo sempre di curiosità ragazzi il Rift Tour di Ariana Grande è stato annunciato un anno fa oggi quindi compie un anno ormai il Rift Tour concerto ovviamente dedicato ad Ariana Grande che è stato un capolavoro come ogni alla fine concerto che hanno fatto che tra le altre cose quest'anno quest'estate in teoria nei file di gioco e come abbiamo anche visto al santuario c'è insomma la possibilità di vedere un nuovo concerto ma attualmente non abbiamo ancora informazioni però attenzione non è detto che ci sia quindi è ancora da vedere però comunque le possibilità che verso fine agosto comunque un concerto arrivi ci sono quindi buone possibilità le abbiamo vedremo se sarà alla fine il concerto di Marshmello o un concerto magari di un altro artista o magari non ci sarà non lo sappiamo comunque ricordiamoci che verso la fine di agosto ci sarà in pieno proprio periodo la collaborazione di Dragon Ball quindi vedremo se ci sarà anche spazio di un concerto io ci spero perché comunque sono sempre eventi super belli da vedere però ovviamente essendoci a collaborazione di Dragon Ball credo che scarseggiano insomma le possibilità di vedere un concerto ma mai dire mai vi ricordo che comunque Dragon Ball dovrebbe essere annunciato proprio tra qualche giorno vi ricordo che il 9 agosto in teoria abbiamo la patch 21.40 che sarà l'inizio del mega evento ovviamente in collaborazione con Dragon Ball quindi vedremo se poi ci sarà anche spazio di un concerto speriamo perché comunque sono molto belli sempre ovviamente da vedere passiamo ragazzi però all'ultima curiosità oggi ne vediamo veramente tantissima anche perché di leaks come potete vedere ne abbiamo pochi ed è una curiosità inerente ad uno dei set più rari che esiste nel negozio oggetti di Fortnite non parliamo di Travis Scott ragazzi parliamo della collaborazione vista ormai mille passaggiorni fa con Stranger Things si parlava tra le altre cose di una nuova collaborazione che poteva essere in arrivo quest'estate attualmente non abbiamo ancora informazioni quindi la vedo difficile però ripeto mai dire mai e sono passati ragazzi ormai sì mille giorni dall'ultimo arrivo nel negozio oggetti di queste due skin che credo che praticamente mezza community fortemente sta ancora aspettando voi vorreste un ritorno in queste skin nel negozio oggetti o meno fatemelo sapere qua sotto nei commenti ditemi se avete queste skin perché ormai non essendo più uscite ragazzi hanno anche acquisito una rarità abbastanza elevata perché non tutti l'avevano presa e non tutti ovviamente pensavano che non fosse più tornata quindi vedremo se in futuro ci sarà un ritorno di questi cosmetici che ormai sono praticamente tra i più rari presenti nello shop detto questo noi ci salutiamo ragazzi mi raccomando a like se non sei ancora iscritto iscriviti ti ricordo il canale telegram in descrizione e detto questo noi ci vediamo domani speriamo con nuove news anche se come ben sapete ormai ne abbiamo pochissime comunque buona giornata e ci vediamo quindi domani credo verso le 12-13 e ci vediamo domani